Ciao a tutti, bentornati nello spazio Pillole Anni 92.000, oggi per lo spazio dedicato ai programmi televisivi degli anni 92.000 vi parlerò del canale televisivo MTV e di un programma che c'era al suo interno e che era dedicato alla musica dance, ovvero la dance flow chart. E allora siete pronti? Vai con le Pillole Anni 92.000 di oggi! Dunque innanzitutto vi dico che inizialmente vi racconterò brevemente la storia di MTV e poi vi racconterò invece di questo programma che era dedicato alla musica dance ma che altro non era una classifica di musica dance. Comunque per quanto riguarda la storia di MTV nasce nel 1997 qui in Italia perché in realtà nel resto d'Europa esisteva già da diversi anni e comunque inizialmente era insieme a Rete A, infatti non so se vi ricordate i primi anni di MTV c'era il logo MTV e sotto quello di Rete A questo fino al 2001 quando poi MTV si stacca da Rete A diventando MTV Italia mentre invece Rete A diventa prima Rete A All Music e poi All Music come vi avevo raccontato appunto nel video su All Music sempre nello spazio Pillole Anni 90-2000 Per quanto riguarda quindi MTV Italia poi prosegue la sua attività anche se con diversi cambiamenti negli anni poi passa al digitale terrestre perché inizialmente era invece sulla tv generalista dopodiché a partire dal 2015 invece passa definitivamente su Sky infatti ancora oggi se volete vedere MTV Italia lo trovate soltanto su Sky quindi per quanto riguarda invece la musica dance su MTV molti erano i video musicali dance che passavano su MTV ma non solo c'era anche l'Eurotrans, la Tecnotrans eccetera eccetera e però c'era proprio un programma dedicato alla musica dance che era appunto la Dance Floor Chart che era questa classifica inizialmente di 10 posizioni dedicate alla musica dance poi anche di 20 posizioni che erano però anche mixate per esempio c'era un blocco dalla 20 alla 16 mixato poi c'era il conduttore che raccontava appunto le posizioni dalla 20 alla 16 poi quelle successive poi c'era un altro blocco mixato e poi così via fino alla fine i conduttori erano Daniele Bossari, Chris e Chris e di cui voglio farvi vedere proprio uno spezzone che riprende una Dance Floor Chart con Chris e Chris vediamone insieme Siamo finalmente arrivate alle primissime posizioni e dopo tantissimo tempo al numero uno Sash con Mysterious Times è purtroppo scesa alla numero due ma non ci posso credere questo vuol dire che c'è un'opinione esatto ma volete sapere di chi si tratta? prima guardiamo Sash con Mysterious Times è un'opinione e un'opinione in Mysterious Times Poi il programma proseguì comunque fino all'estate del 2004, dopodiché a partire dal settembre 2004 tornò nella formula di 10 posizioni non mixate, questo fino a dicembre 2004 per poi essere completamente rimpiazzato e quindi non c'era più questo programma. Ma questo perché comunque come ve li sappiamo nel mainstream la musica densa a partire dalla fine del 2004 ce n'era sempre di meno fino purtroppo a scomparire. E insomma quindi questa era un po' la storia di MTV e di questo programma appunto dedicato alla musica densa, magari fatemi sapere nei commenti se seguivate MTV o magari se seguivate anche questo programma. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e ci vediamo venerdì con lo spazio DJ Piazza in The Mix dove mixerò 5 canzoni del 1977 in 5 minuti. Alla prossima!